Mi conto benedetto di aver potuto fare la missione in Italia. Un amico mio italiano di 90 qualche anno ha descritto la sua zona come il giardino del mondo. Questo per me è una buona descrizione per l'Italia. È un paese bellissimo. Mi piace la lingua, il cibo buonissimo, non c'è paragone. Mi sono davvero innamorato dell'Italia e del popolo italiano. Per me la missione è stata un'esperienza bellissima. Ho conosciuto delle persone che saranno amici miei per il resto della vita. Torno in Italia quanto posso e è sempre un grande piacere per me. E anche la mia vita è stata influenzata dalla cultura italiana. Conosco ora come fare la pasta all'italiana, che è molto meglio della schifezza che fanno alcuni americani e lo chiamano pasta. Gli italiani sanno apprezzare. Il cibo italiano è un'arte che gli italiani lasciano abbastanza di tempo per farne un'esperienza e un'arte da apprezzare in tutta la sua qualità. Possiamo noi in America imparare dagli italiani in come apprezzare e fare il meglio delle cose. Per questo c'è un posto grande nel mio cuore per l'Italia. Per questo c'è un posto grande nel mio cuore per l'Italia.